perché sta per il Catania che ha fatto tutto questo, l'amore per il Catania, per non starci assolutamente a veder morire il Catania. Questo ha consentito che io e il proprietario mi rappresenta la proprietà di Catania, io non so se posso dire l'ex presidenza, sembrerebbe male quando altro, ma sappiamo che mi riferisco a colvinamenti. Poi ci siamo incontrati un nuovo